ho scelto io faccio l'arco faccio l'arco tengo la punta davanti faccio l'arco tengo la punta lì tengo il bersaglio tocca la mano anziché farla seguire è giusto uno si chiama arco e uno si chiama arco l'arco questo è sempre arco su l'arco su lo faccio alla nuova tu dai da sotto la mia mano arco però c'è la torta da sotto nel mio arco sopra devo conciugnirlo arco 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 già ti controllo faccio l'arco muovo la mano ma lascio la punta lì e invece invece da sopra dall'arco mi devo spostare perchè non lo so quanto è in profondo tutto ha tanto certo non lo so no sino non lo so Grazie a tutti. Grazie a tutti.